Saluti da Agrobalati! Oggi sto preparando almeno 6 kg di pane casareccio fatti in casa e non poteva mancare una bella pizzetta. Con tonno, olive, cipolla di tropea, olive nere quelle ariganate e anche del prosciutto cotto. Ci dovete tanto peperoncino, olio extravergine d'oliva, impasto anche con lievito. Insomma, la pappo con una bella birretta.